Ragazzi, come si sta bene? E' anche comoda! Abbiamo... Maestro Amazzo, grazie! Ragazzi, come si sta bene? E' anche comoda! Abbiamo saputo, allora, chi è in quel position per chi? Schumacher e Marichello! Bene! Un'imbocca al lupo da Ferrari, allora! Ormai campionissima di tutto! Non ce l'avevi, no? Io mi sono messo di rosso! Io ti vedo! Io ti vedo! Senti, io ti lascerei solo adesso, perché so che è arrivato il momento del tuo medley! Ok! Vai, Little Tony! O ventiquattromila baci, oggi sape perché l'amore, ogni stanza è mille baci, mille carezze e ore all'ora. O ventiquattromila baci, oggi sape perché l'amore all'ora è l'amore. In questo giorno d'inforia, ogni momento è tutto mio. Niente più c'è meraviglioso, quasi d'amore appassionato, ma solo baci indietro a te. Niente più c'è meraviglioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Non è matto, matto da legare che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che l'hai lasciato e non ritornerai. E la verità, la verità, che non si capirà, capirà, perché la verità non è vera mai. Non è matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Non perderai, così non perderai. La verità, la verità, e forse capirà, capirà, perché la verità non è vera mai. non è matto che ti vuole bene. e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così non perderai. Il cuore è matto che ti vuole bene Il cuore è matto, matto da legare Il cuore è matto che ti vuole bene Il cuore è matto, matto da legare Il cuore è matto... Per io he loerem... Johann humiliom! Grazie! Eiga, viritotri- roui теперь Grazie ragazzi! Qualcuno di voi mi deve aiutare a spostare la macchina non posso metterla in mondo perché adesso c'è Mara che farà delle interviste perciò non possiamo fare rumore. Dai, con me! Applausi La macchina deve tornare eh ragazzi, ce l'hanno prestata, Tony, Tony devi ritornare mi raccomando, non è che mi scapi, no no no, metto a posto la macchina, mica è finita qua, e mentre aspettiamo Terence Hill, Sabrina Ferilli, Albano e ancora tanti... Maestro Mazza, ragazzi ma che stai facendo? Questo è Morandi, questo è l'italiano, l'italiano, ma ho capito Maestro Mazza, questo è il gioco della lotteria Italia al Bonatti... Che sono? Ecco chiudiamo il vento, Daniele è indovinato, fai anche tu una piccola frase, andiamo facilmente che manca poco tempo, suonalo ancora Sam. Casablanca! Bravo Daniele! Allora hai indovinato tutto, adesso manca Fantozzi e la sua signora, come vedi hanno le... Ciao! Ciao! Ciao!